5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 3 4 5 6 ok, parto 1 2 3 4 5 6 5 5 6 6 8 9 10 10 10 11 12 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 19 20 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 21 21 22 22 20 20 20 21 22 21 22 22 23 20 21 22 dai altri due 23 24 ok 355 forza che? ok a 6 a 4 1 2 3 4 forza forza 5 6 7 8 va bene andiamo 9 10 11 12 siamo a metà forza 13 14 15 16 bravo dai 5 5 10 forza non stare così accasciato respira dritto forza che? 17 17 18 19 20 dai gli ultimi 4 forza forza 21 22 23 24 bravo ti rendi poco poco dietro il bilanciare ok ok dai forza singole andiamo 1 2 2 vediamo che 3 dai 6 23 6 30 4 4 forza quanti ma andiamo 5 dai non ti fermare 6 7 e 5 7 forza andiamo forza che? dai veloce 8 9 dai dai forza è finito 10 dai 2 veloce 11 dai fai l'ultimo veloce veloce 12 5 secondi fai qualche mazzo là dai sali stop mamma mamma cosa fai la pizza va bene sei dritto respira cerca di regografiato 5 5 per 5 6 6 no, non lo so cosa cosa? mi piace ma... non lo so io voglio... 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 sì provo... no... no... eh? voto voto... vediamo che fai 9 e 30 30 secondi 20 ha senso? e cosa? mi piace mi piace vediamo... 5 secondi 4 3 2 1 go 1 2 dai... forza 3 4 forse andando bene... andiamo... 5... vai... manca un minuto adesso... forza... ehi... bravo... 6... 7... bravo... dai... e 30... 30 secondi... veloce... 8... vediamo... vai... forte... 9... vai... 10 secondi adesso... forza... forte... ehi... 10... vai l'ultimo... stop... 10... molto una volta... guarda... 20... 5... 10... e... e 10 20 kg 5 10 5 e 20 6 6 7 7 8 8 9 12 13 14 15 15 16